Secondo Mentano usate due metri di misura perché non difendete Orfeo, anzi lo attaccate e invece difendete Ripo. Lo dico a Mentana, al direttore del Tg di La 7, dico questo. Se Ripo è scomodo perché tratta alcuni argomenti e c'è qualcuno che vuole chiuderlo, noi lo difendiamo. Il Tg1 ha dei dati e i dati sono, anche quelli durante il referendum sulla Costituzione, che dà uno schiacciamento totale del Tg1 al governo. Ci sono dati in cui il Presidente del Consiglio ha avuto una sovraesposizione incredibile, enorme, dati che andavano al 50-60%, erano dati inaccettabili. Allora Orfeo può rimanere tranquillamente al suo posto perché non lo decido io, come si è visto, ma soprattutto deve rispettare le leggi sulla par condice, deve rispettare l'equilibrio delle parti. Tutto lì, se si rispetta non c'è problema, se non si rispetta si critica, non è due pesi e due misure, assolutamente no, è una cosa che non mi appartiene personalmente. Tutto lì, se si rispettate Tutto Tonio